paolo fox oroscopo di oggi mercoledì 21 agosto le previsioni segno per segno amore lavoro benessere fortuna cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv l'oroscopo di paolo fox di oggi mercoledì 21 agosto l'astrologo più famoso della televisione ogni giorno dalle sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua aria terra e fuoco le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da radio latte miele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata comunque vada come consiglia lo stesso paolo fox le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno e non vanno considerate un oracolo indefettibile oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 ariete 21 marzo 19 aprile è un momento in cui aleggiano tensioni nell'aria esse sono legate per lo più sul fronte lavorativo la verità è che c'è una grande stanchezza le energie sono venute meno e per giunta giunge qualche cambiamento non previsto da affrontare indubbiamente una situazione stressante cercate di controllarvi anche se non sarà facile non fate prevalere la rabbia anche in amore è un momento delicato è essenziale stare attenti alle complicazioni oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 toro 20 aprile 20 maggio avete un oroscopo importante nel caso specifico vuol dire che arriveranno belle soddisfazioni entro la fine dell'anno quindi siate ottimisti anche se ci saranno giornate difficili pensate a cosa vi aspetta sfide da vincere e traguardi da raggiungere con il favore delle stelle dovete fare attenzione alla situazione finanziaria mantenete in ordine i conti e siate prudenti limitando le spese allo stretto necessario in amore si arriverà alla risoluzione di un problema oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 gemelli 21 maggio 21 giugno mercoledì non farete i salti di gioia infatti la giornata vi vedrà sotto tono qualcosa vi tormenta tanto che vi infastidite per niente grande suscettibilità nervi tesi in famiglia il clima non è affatto dei migliori si respira un'aria agitata state attenti alle discussioni anche con gli amici insomma dovrete contare fino a 10 prima di poter dire la vostra con la dovuta calma e diplomazia le cose non vanno meglio in amore per cui moderate i toni e non innescate polemiche oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 cancro 22 giugno 22 luglio ecco una giornata che trova le stelle dalla vostra parte e non è un caso isolato avvertite un po di stanchezza ma rispetto all'ultimo periodo la situazione è nettamente migliorata cercate di proseguire liberandovi di stress e ansia che non hanno più motivo di esserci forse vi aspettate qualcosa di speciale in amore ma dovrete accontentarvi di un dialogo ritrovato per le emozioni non c'è ancora spazio con venere neutrale oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 leone 23 luglio 23 agosto fate attenzione alla vostra situazione finanziaria delle spese da affrontare potrebbero rappresentare un problema venite da una fase agitata della vostra vita che vi ha un po sfiancato fortunatamente ritroverete una maggiore energia e una sufficiente reattività per sbrigare o sbrogliare determinate situazioni non sottovalutate la presenza di venere che finalmente porta belle emozioni un toccasana oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 vergine 24 agosto 22 settembre la luna è nel vostro segno zodiacale insieme a marte quindi siete molto indaffarati agite su più fronti e potreste avvertire un po di stanchezza dovete provare a non fermarvi perché è una fase delicata in cui state facendo piani per il vostro futuro sarà importante dedicare del tempo anche nel rapporto di coppia in cui è venuta a mancare la passione bisognerà in qualche modo ritrovarla altrimenti la complicità verrà meno per dar spazio a una routine che non aiuta la relazione oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 bilancia 23 settembre 22 ottobre le energie fisiche scarseggiano proprio quando ne avevate bisogno per affrontare delle questioni complicate cercate di rilassarvi magari con un po di meditazione o comunque con qualcosa che riesca a farvi ritrovare un po di benessere ed equilibrio sul fronte lavorativo siete pensierosi ed è giusto sia così in questo periodo l'amore sta andando in secondo piano ciò non deve accadere oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 scorpione 23 ottobre 21 novembre finalmente si riparte avete trascorso dei giorni tormentati ma adesso già vi attende una giornata di belle notizie e un carico di energie che vi consentirà di assecondare l'intento di avere tanta voglia di fare purtroppo non tutto gira nel verso giusto in amore stata attraversando un momento di tensione evitate discussione e polemiche quando sarete più sereni ci sarà modo di parlare sinceramente e di far venire a galla i vostri sentimenti oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 sagittario 22 novembre 21 dicembre a quanto pare è proprio la vostra giornata la luna è contraria ma non riuscirà a incidere negativamente il lavoro procede senza scossoni tutto nella norma bene gli incontri che saranno fortunati decisamente una buona giornata per i single ma anche per chi cerca nuovi amici per chi vive un lungo rapporto di coppia ci sarà qualche ostacolo da affrontare nulla di irreparabile oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 capricorno 22 dicembre 19 gennaio avete una grande voglia di amare e le stelle sono dalla vostra parte una bella partenza se siete tra coloro che non hanno trovato ancora l'anima gemella dovreste cominciare a guardarvi intorno per la fortuna assiste soprattutto gli audaci marte vi darà anche una bella spinta vista la posizione favorevole non trascurate il lavoro in questo periodo e non mettete da parte la vostra cautela nelle risorse economiche oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 acquario 20 gennaio 19 febbraio c'è da dire che vi aspetta una brutta giornata siete oberati di cose da fare non vi sottraete all'impegno cercate di rispettare date e scadenze ma siete così stressati da non riuscire a sopportare nulla e nessuno quando la situazione è così tesa ci si rifugia nell'amore si cerca sostegno e supporto anche solo a parole della persona amata ma stavolta anche in amore vige una certa agitazione e ci sono per giunta dei dubbi situazione pessima oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 pesci 20 febbraio 20 marzo aleggia la tensione nell'aria in queste giornata eppure non avete colpa stat affrontando dei cambiamenti in vista dell'autunno ma ne vale la pena perché arriveranno belle soddisfazioni la luna è opposta e rallenta un po quindi vi conviene fare tutto con estrema calma e dopo aver ponderato il da farsi al meglio anche perché volete togliervi qualche sassolino dalla scarpa oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 bilancia 23 settembre 22 ottobre le energie fisiche scarseggiano proprio quando ne avevate bisogno per affrontare delle questioni complicate cercate di rilassarvi magari con un po di meditazione o comunque con qualcosa che riesca a farvi ritrovare un po di benessere ed equilibrio sul fronte lavorativo siete pensierosi ed è giusto sia così in questo periodo l'amore sta andando in secondo piano ciò non deve accadere oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 scorpione 23 ottobre 21 novembre finalmente si riparte avete trascorso dei giorni tormentati ma adesso già vi attende una giornata di belle notizie e un carico di energie che vi consentirà di assecondare l'intento di avere tanta voglia di fare purtroppo non tutto gira nel verso giusto in amore stata attraversando un momento di tensione evitate discussione e polemiche quando sarete più sereni ci sarà modo di parlare sinceramente e di far venire a galla i vostri sentimenti oroscopo paolo fox 21 agosto 2024 sagittario 22 novembre 21 dicembre a quanto pare è proprio la vostra giornata la luna è contraria ma non riuscirà a incidere negativamente il lavoro procede senza scossoni tutto nella norma bene gli incontri che saranno fortunati decisamente una buona giornata per i single ma anche per chi cerca nuovi amici